Complessivo di 13.366 Yurchenko teso, un avvitamento in mezzo, peccato veramente per quel balzo in avanti, anche un po' di lato l'ha fatto uscire dalla pedana ma è uno dei migliori volteggi per quanto riguarda l'elevazione dopo la spinta sulla tavola, la tenuta delle gambe, bravissima è leggermente spostata, eccolo là, è uscito dalla riga bianca, quindi penalità per lei Cado veramente perché il salto ottimo, un po' di sbilanciamento alla sua sinistra, uscita fuori dalla zona d'arrivo E' il momento del secondo volteggio per la Georgieva, mentre Kacikian, ripeto, è in terza posizione con 14.80 avesse E' pronta per il secondo volteggio, Valentina Georgieva che presenta un secondo salto di difficoltà di 4.4 Zucara teso con avvitamento, bene, ovviamente, tenendo il salto preso dalla Yurcenko, dal B-Flag, il salto Yurcenko Le gambe unite, le gambe, i piedi non si aprono dall'inizio, all'inizio forse un decimo ci può essere, ma poi dopo lo stacco non divarica più le gambe Adesso c'è dopo il punteggio della Georgieva che non appare molto soddisfatta di dire la verità Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti